L'oroscopo di Astra Bentrovati ad appuntamento con l'oroscopo di Astra, scopriamo quali sono i consigli delle stelle per martedì 14 luglio. Ariete, hai avuto momenti di maggior splendore, ma in un modo o nell'altro riesci a tenere in piedi la baracca, magari confidando nel tuo stellone, che sembra non averti ancora abbandonato. In famiglia l'agitazione è in crescita. Toro, i conti cominciano a tornare, non per caso, ma grazie al recupero della migliore condizione psicofisica. Hai parecchio da dire su ogni argomento e la capacità di badare al sodo quando serve davvero. La serata in coppia è magica. Gemelli, a volte ti perdi in un bicchiere d'acqua per eccesso di dinamismo. Non è il caso attuale, se mai ti si può rimproverare qualcosa è la troppa praticità. I contatti sociali e le feste, come l'amore, sono sotto la protezione di Venere e Giove. Cancro, il risponso del bollettino astrale e quello sperato, hai ben poco di cui lamentarti con Marte, Sole, Mercurio e la Luna in transito nel tuo segno. Ciò che devi fare è alzare l'asticella e puntare al massimo. Ok per l'amore e l'eros. Leone, qualche dubbio è legittimo di tanto in tanto. Non sbagli a guardarti intorno e restare in campana. Non puoi fidarti a occhi chiusi di nessuno. L'ottimismo alla fine prevale. È l'amore oggi il motore della felicità. Vergine, qualche sassolino dalla scarpa te lo stai togliendo con legittima soddisfazione. Non accontentarti però solo di mettere in riga chi ti sta sulle scatole. Puoi puntare più in alto, senza dubbio. La serata in coppia è eccitante. Bilancia, i venti soffiano in direzione contraria alla tua marcia. Ci sta oggi un calo del tono vitale e del buon umore, oltre a qualche cambiamento d'idea dell'ultimo minuto. Le discussioni in famiglia e in coppia ti mettono in agitazione. Scorpione, la vendetta è un piatto che va servito freddo e nessuno lo sa meglio di te. Se c'è un momento favorevole per prenderti la gognata di vincita è l'attuale. C'è aria di tregua invece in coppia e persino un lampo di romanticismo all'orizzonte. Sagittario, ciò che conta davvero è non abbassare la guardia, perché l'occasione giusta può capitare anche quando meno te lo aspetti. I contatti sociali, le feste, i momenti di passione in coppia sono nel menu di questa giornata d'estate. Capricorno, non hai il tempo di rilassarti o di godere per un successo. C'è sempre qualcosa di urgente e di faticoso da fare. Fortuna che la tua resistenza è a prova di bomba e che la pazienza è ben allenata. La serata in coppia è agitata. Acquario, il disbrigo dei doveri quotidiani è al centro dei tuoi pensieri. Ti aggrappi a ciò che è pratico per dimenticare il resto. I motivi per sorridere non ne hai molti. La buona notizia è che puoi aspettarti i progressi a stretto giro di posta. Pesci, il fisico che gira a pieno regime non è l'unica buona notizia della giornata. C'è che i tuoi ragionamenti filano e che anche il buon umore è al top. I venti sono favorevoli all'amore. Il tuo lato romantico oggi è in evidenza. E anche per oggi con l'oroscopo di Astra ho concluso. Grazie per l'ascolto. Buon proseguimento. A domani.